ben ritrovati di nuovo su review.io oggi vado a recensire questo articolo da palestra acquistato per la mia home gym come vedete sto facendo diversi video a tema home gym andatevi a guardare iscrivetevi al canale per supportarmi andiamo a vedere insieme questo articolo l'acquistato su amazon ad un prezzo di 29 euro è di buon materiale quindi anche al tatto si sente che bello pesante potete vedere le parti zigrinate dove vi permettono appunto di afferrarlo al meglio c'è un ottimo grip anche da questa parte è bello cromato argento pieno all'interno e qui c'è un foro per andare a inserire il moschettone che non arriva però con il prodotto ma comunque lo potete acquistare tranquillamente a pochissimo prezzo vedete che c'è anche il foro e che potete ovviamente ruotare è ruotabile questa parte bene se avete domande non esitate a pormele ci vediamo alla prossima review